devo star di là? a minimo non devi fermarti ma tu ti butti al contrario via che tu cammini fuori si ho idea anch'io vai avanti no ma non esci di lì e allora via 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 la facciamo al contrario Pampio facciamo al contrario con la salita a salire poi scendiamo di qua e torniamo indietro ancora torniamo indietro qua facciamo il pezzo e poi andiamo in strada andiamo a casa di là facciamo al contrario la salita saliamo fino in cima e torniamo di qua se vuoi o scendiamo in strada grazie grazie